buonasera stasera tardissimo proprio 23 36 non ce l'hai fatta prima allora come è andata la situazione ieri poi o meglio stamattina che ieri era tardi era sera sono andata a cercarmi quel famoso esame che avevamo fatto del didimero di cui vi avevo parlato trovato scoperto che l'avevamo fatto dietro nel 2022 e messo in borsa tra l'altro all'epoca l'ho ritrovato insieme io non mi ricordo assolutamente quel quel momento e quella visita però ho scoperto che avevo fatto fare a mio marito anche l'eco color doppler agli arti inferiori proprio perché l'idimero era per lo più per i trombi degli arti inferiori e quindi mi sopportava pure quello ma all'ospedale poi il primario mi ha detto che nessuno aveva parlato di trombi in realtà avevano parlato di possibili embolie di possibili all'inizio di possibile ictus di possibile ischemia ma di trombi in realtà non ne aveva parlato proprio nessuno anche perché trombi non ce n'erano anche mi sono scusata con il dottore dicendo che in effetti devo avere il cervello un po in pappa e capisco patate per cipolle oppure mi arrivano a me idee e poi sono convinta che ne abbiano parlato lì e quindi mi fisso sulle mie idee comunque alla fine non serviva nulla nell'esame del del didimero e nemmeno l'esame che avevo fatto infatti in più delle ecocolordoppler alle gambe comunque meglio portare una cosa in più che una cosa in meno nel frattempo l'ospedale si è mobilitato e anche gli altri medici che seguivano mio marito nelle sue patologie pregresse quelle che erano partite intorno al 2016 2017 si sono consultati con la rianimazione e il dottore sempre primario della rianimazione mi ha detto da domani di portare all'ospedale le terapie che stava prendendo a casa perché hanno valutato insieme i dosaggi differenti di alcune tipologie di medicinali che prendeva e iniziano a reinserire le sue medicine anche per valutare vedere gli effetti che eventualmente questi questi medicinali hanno anche su di lui perché lui essendo che comunque era già appunto dal 2016 almeno pluripatologico aveva già una serie di terapie che stava facendo poi con tutto quello che è accaduto queste terapie ovviamente erano state interrotte e invece appunto dopo il consulto con gli altri medici che lo seguivano da prima e tutto hanno deciso adesso di reinserire mano a mano le vecchie terapie che stava prendendo e di valutare anche la funzionalità delle stesse quindi io domani mattina porto le le sue pastiglie tutto quello che prendeva prima poi vedranno i medici a me non mi hanno detto adesso i dosaggi in muovine niente perché tanto se ne occupano loro io al momento non ho voce in capitolo su quello non devo dargliele io perché ancora in rianimazione ancora e tutto da vedere ovviamente per il resto oggi a parte le sacche diciamo nutritive quindi il glucosio e il cibo liquido ancora col sondino eccetera ha ancora l'aerosol perché deve finire di staccare tutta questa serie di catarro che gli si è formato presumibilmente anche per tutto quel coma farmaceutico farmacologico non farmaceutico che ha fatto e la posizione è sempre sdraiata e continua a riuscire a muovere le mani una la muove dall'inizio la destra la sinistra la continua ad alzare abbassare non ha tanto la capacità di stringere né con la destra dove stringeva proprio poco e la sinistra non stringe per niente però tutto sommato se muove l'importante è quello le gambe le muove entrambe ora da sdraiato perché ovviamente ancora nel lettino fermo con le flebo con tutto per cui non si sa come i muscoli si siano allentati o meno adesso però intanto le muove le sposte le accavalla quindi va già bene così per altre questioni di medicinali a parte due flebo che non ricordo i nomi uno mi pare si chiami niente non me lo ricordo tarzacin o torzacin qualcosa del genere e l'altro non l'avevo ancora visto l'hanno messo l'hanno inserito ora ma non ho chiesto l'umini sui medicinali anche perché non sono un medico e quindi me ne sto di quello che decidono i medici in merito ai cambiamenti delle varie terapie che gli stanno facendo e nell'insieme lui non parla ancora non riesce ancora a parlare ma ha tenuto per tanto tempo il tubo diretto in più c'è ancora il sondino che gli passa quindi può essere che abbia ancora la gola diciamo un po' atrofizzata da tutta la situazione ma i medici lo stanno comunque spronando a tentare di ricominciare a parlare in maniera normale e anche a imparare sempre il discorso della tosse e a ingoiare la saliva perché molto spesso solo scorda non ci pensa e non ingoia però è capace riesce ma bisogna ricordarglielo perché sennò si scorda di farlo nell'insieme comunque era vigile era sveglio era un po' stanco e anche un po' nervoso probabilmente perché comunque non è facile anche semplicemente rimanere tutti quei giorni in posizione supina vero che hai letto antidecupito gli fasciano alternativamente anche i talloni per evitare che li fretti magari con le coperte eccetera gli cambiano spesso la posizione gli lo alzano, lo girano con i cuscini però più di tanto non si può fare perché comunque tutte le flevo attaccate ancora e tutto il resto però chi non sarebbe nervoso dopo oggi sono dieci mi pare dieci e undici giorni adesso ho perso anche il conto e muovo dico per essere precisi mica peraltro allora era sabato sei quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove dieci giorni oggi erano dieci giorni in quella posizione dieci giorni con tutti quei tubi attaccati di quei dieci giorni otto con due tubi in gola quindi l'intubazione non è più il sondino gastrico dieci giorni con poi la possibilità di voler dire le cose ma non riuscire proprio fisicamente a parlare a dirle quindi rendersi conto che anche quando ci prova non si capisce proprio fisicamente anche non io che non sento ma in generale c'era anche mia cognata c'era l'ambrogia c'erano i lettori ci prova a parlare però non si capisce ancora molto di quello che dice e tutto questo rende comunque nervosi soprattutto quando con la testa ci sei ma il resto non collabora e quindi è ovvio è da capire che sia adesso un po' agitato non vede l'ora di tornarsene a casa purtroppo non glielo ho detto ovviamente ma ancora la questione è parecchio lunga inoltre non credo che abbia proprio chiaro cosa sia successo e nemmeno il perché sia lì di preciso beh il perché sia lì non è chiaro per nessuno perché ancora appunto una diagnosi vera e propria non ce l'abbiamo manco noi e nemmeno i dottori ma in generale non ha proprio forse la cognizione di cosa sia accaduto di quanto tempo è che sia lì e tutto il resto queste sono tutte cose che ancora non penso proprio che abbia messo a fuoco per il resto appunto già il fatto che abbiano diminuito i farmaci delle flevo e anche che ricomincino a fargli seguire le sue terapie ufficiali significa che comunque almeno dal mio punto di vista il fisico ora è perlomeno in grado di ricominciare con le sue terapie con la sua routine di prima quindi anche con tutte le problematiche che ancora ci sono con tutte le problematiche che ancora ci saranno e tutte le soluzioni che vanno ancora cercate affrontate via dicendo però per ora nel male sempre di tutto ciò che è accaduto la strada sembra che vada sempre a volgere in positivo e quando non è positiva perlomeno è stazionaria e va bene lo stesso va benissimo da come era iniziata tutta questa questa situazione inverosimile per me io sto cominciando a rendermi conto ora di tutti gli annessi e connessi di questa situazione perché sul momento è stato proprio una cosa inaspettata una cosa non c'era proprio non c'ero manco io adesso invece sto cominciando a razionalizzare proprio l'andazzo anche io quindi figuriamoci lui poverino che si è appena risvegliato diciamo a livello mentale da tutto l'accadimento io continuo comunque a tenervi informati sempre perché comunque mi chiedete in tantissimi sia tutti quelli che ringrazio sempre e che mi seguono su youtube su facebook e via dicendo sia tutti gli amici sia gli amici virtuali che gli amici fisici materiali di conoscenza visiva che ho che abbiamo sia tutti gli amici anche di genova perché io sono di genova ma anche mio marito è di genova e quindi anche da genova parenti e amici chiedono si interessano si informano di conseguenza sapete faccio questi piccoli intermezzi a tempo debito quando riesco proprio per cercare di dare maggiori spiegazioni a tutti e raccontare gli eventi a tutti perché altrimenti mi verrebbe non difficile ma impossibile riuscire riuscire a rispondere a tutti persino i nostri parenti ormai guardano il videtto serale perché così almeno evitano di stare a telefonare a fare anche perché io non ci sento siamo sempre avanti e indietro fuori e dentro da tutte le parti in casa non ci siamo quasi mai per un motivo o per l'altro è comunque uno sbattone non indifferente riuscire a rispondere poi magari a mille privati iscritti a telefonate a invece così sono sincera è decisamente meglio per chi è interessato alla questione e anche per me per noi perché è più semplice che altro dire ringrazio sempre davvero tutti 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 quelli che sono presenti tutti quelli che mi mettono anche solo un sito sentito tutti quelli che mi chiedono nei commenti tutti quelli una persona in particolare che non nomino perché non so come nominare che non voleva essere ringraziata ma in particolar modo invece anche se non so nemmeno che parole usare la ringrazio infinitamente lo ringrazio infinitamente posso solo chiamarlo l'amico del quadernone diciamo che questa persona capirà chi sto ringraziando veramente all'infinito non ho nemmeno parole da usare non mi escono nemmeno le parole detto questo ringrazio comunque anche tutta l'immensità degli altri che siete andiamo avanti e vi aggiorno di giorno in giorno vi dico come la situazione mi si è spalmato il salciccia pof tiene caldo pure lui alla prossima io adesso vado avanti che anche se è tardissimo devo fare almeno un videtto per domani sera perché come vi dicevo l'altro giorno non ne ho più in programmazione e qualcosa deve uscire comunque perché io sono così perché io quando mi prendo qualsiasi impegno sia mi piace rispettarlo fino in fondo primo secondo in qualche modo i video sia queste chiacchierate che faccio con tutti voi e sia anche proprio i miei video soliti che cerco di fare e di mettere comunque in uscita in programmazione di giorno in giorno mi aiutano notevolmente mi danno una valvola di sfogo quindi diciamo che lo faccio per il canale in primis lo faccio per voi a pari merito in primis e sono sincera magari peccherò di non umiltà ma lo faccio anche per me perché parlare nei video e fare questi video veramente mi dà un'enorme valvola di sfogo anche a me e quindi quando una cosa la fai per un motivo ma aiuta anche l'altro motivo va sempre comunque bene vi saluto e corro a fare il resto che per me per un motivo o per l'altro è sempre e solo presto che è tardi mi ci dovevo chiamare presto di nome che è tardi di cognome ciao